Grazie, grazie professor Malighetti. Ieri siamo arrivati qua per fare una visita di questo auditorium. Pensavo che rispetto alla tematica dell'antropologia la gente interessata non fosse molta. E invece oggi vedo che presenti nel pubblico ci sono invece molte persone interessate. C'è tanta gente che vuole comprendere, conoscere di più sull'antropologia cinese. Questa è una cosa buona. In realtà in Cina, nell'antropologia cinese, relativamente è uno studio marginale. Invece a livello internazionale l'influenza non è che sia così alta dell'antropologia. Ma mi piacerebbe che attraverso lo scambio di oggi tra accademici cinesi e anche quelli italiani e internazionali possiamo contribuire allo sviluppo di questo settore di ricerca. Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Io oggi sono qui per presentarvi questo titolo Islam, Religion and Ethnic Society of Hui in China. Pare che mi rivolga come soggetto a un'etnia di minoranza cinese, ma in realtà questa tematica riguarda un'ampia sfera. Innanzitutto la religione islamica in Cina. Forse quando voi pensate alla Cina è difficile pensare che la cultura cinese si possa combinare, legare alla cultura musulmane. Ma nella realtà una cultura che arriva dall'estero, che per la Cina è una religione che arriva dall'estero, in Cina ha attraversato un'etnicizzazione, una localizzazione come tematica, come processo anche conflittuale. Quindi noi mettiamo la questione dell'Islam in un pensiero, una prospettiva locale e anche etnica. Ecco, questo modo di discuterne senza altro ha un significato importante. Perché ciò che vorrei far vedere in questo caso è proprio far vedere una questione di una religione sistematica in una zona, in una nazione o in una Cina come si etnicizza, come si localizza. Io penso che la religione islamica sia molto ampia, ma in Cina anche tra le 56 etnie 10 credono nell'Islam. Però comunque la Cina ha un miliardo e 300 milioni e la popolazione musulmane sono 23 milioni. Quindi in questa grandezza, l'elormità della popolazione cinese alla fine veramente sono poche. Guardiamo un po' i dati. Queste dieci etnie sono dei Huizu, Uigur, Hazak, Dongshan, Kirk, Kazaki, Salar, Tajiki, Poan, Uzbeki. E di questi qui la maggior parte, sei, cinque, sei, sono soprattutto nella zona tibetana. Lui sono Uiguri. Sono molto rappresentativi. Nel Xinjiang sono musulmani e a parte gli Uiguri sono anche Kazakisi, anche Kurds, Kurds e Uzbeki. E loro sono soprattutto, come Kazaki, sono interetniche. Kazaki e anche Uzbeki, Tajik per esempio, principalmente loro si concentrano fuori confine, nella zona Asia minore, Asia centrale. Loro sono i Huizu. In Cina, nell'entroterra, cioè non Xinjiang, altre zone interne, altre zone cinesi, i musulmani sono soprattutto Huizu, Salar, Poan, Dongshan, ma sono tutti Huizu. Perché in queste quattro etnie la Huizu è la stramaggioranza. È la stramaggioranza. Quindi nell'entroterra cinese e nel Xinjiang, ecco, i muslimi, gli islami sono circa 10 milioni in 10 milioni. E invece nell'entroterra cinese sono soprattutto Huizu. Quindi i Huizu sono, cioè, in Cina, le etnie sono musulmani, le possiamo dividere in due parti. Quelli che stanno in Xinjiang, che sono muslimi, i musulmani, e sono in cultura Tujiu e anche islamica, che si combinano. E poi l'altra sezione, invece, nella zona introterra cinese, che sono soprattutto Huizu, ma che sono Han, oppure Confuciani, cultura, che si combina con quella islamica. Quindi un altro modello. In genere, noi prendiamo la cultura islamica cinese e la dividiamo in due parti. Una parte è quella islamica di Xinjiang, soprattutto di Uiguri, e dall'altra parte, invece, quella dell'entroterra cinese, del Huizu soprattutto, che è molto più rappresentativo. Quindi noi possiamo osservare che sia in Xinjiang o che sia nell'entroterra islamica, in realtà tutti hanno visto la localizzazione, la localizzazione, l'etnicizzazione, esprimendosi una pluralità di identità. E quindi queste caratteristiche della Cina, è molto difficile usare uno standard per definire, oppure dire questo rappresenta, perché è l'etnia principale, è difficile, perché è più plurale. E quindi questa anche multidiversità ne è determinante. Quindi, in questa mia tesi, soprattutto, io porto il focus sulla società dei Huizu. Parte da questo tipo di pensiero. Io prima ho detto, i dieci etnie che credono in musulmano, a parte Huizu, gli altri nove, rispettivamente, sono concentrati in alcune zone. Quindi, relativamente, sono concentrate. E non solo, hanno le loro lingue. Solo Huizu è l'unica che, già da quando si è formata, ha usato la lingua Han, il mandarino, come lingua madre. Noi abbiamo detto prima che 56 etnie sono in Cina, ogni tipo di lingua c'è in Cina. Ma, anche prima, il direttore Wan ha parlato di altre etnie che usano il cinese. Ma, quelle etnie, nella storia, hanno sempre avuto comunque le proprie lingue. Invece, il Huizu, fin dall'inizio, quando si è formata, solo loro, cioè, dai 56, l'unica, questa qui, da quando si è formata, ha sempre avuto, come lingua madre, la lingua Han, lingua cinese e mandarino. Poi, un'altra caratteristica, a parte l'uso del cinese e mandarino, è Han. Loro hanno un'unicità, a parte questa caratteristica, sono la popolazione più diffusa. Anche se è un per cento rispetto a Han, però, in Huizu, in Cina, il livello di dispersione è molto grande. In ogni angolo della Cina, in ogni provincia, in ogni contea, tu trovi una persona di Huizu. E quindi, queste due caratteristiche, che parlano il cinese Han, e che hanno una grande diffusione in tutta la Cina, ha permesso, sì, che l'etnia Huizu è molto particolare, estremamente particolare, dentro le altre etnie. E quindi, storicamente, la loro etnicità, come questione, nell'Accademia Antropologica, e anche per gli storici, è stata una delle questioni più trattate. Quindi, proprio perché queste due caratteristiche sono di Huizu, ha fatto sì che questa etnia abbia avuto componenti che sono dentro ogni settore della Cina, ogni classe della Cina, ogni livello della Cina, e la loro cultura è quella che più esprime l'Islam, la religione musulmana, che si intreccia, che si integra, e che si compenetra con la cultura cinese classica, tradizionale, autoctona. E quindi, noi possiamo vedere come la cultura islamica e la cultura confuciana si sono unite, trasformandosi nella cultura di Huizu in Cina. e in questa localizzazione della cultura musulmana si è creato un caso più unico che raro. Per cui, molti hanno fatto ricerca su come questa religione che è venuta dall'estero, è arrivata in Cina, ha avuto tutto un suo processo di sviluppo, e osserviamo che, soprattutto nell'entroterra, la religione islamica si veicola attraverso lo sviluppo dell'etnia di fermento. E quindi vediamo che l'Islam in Cina si è sviluppato in questo modo, con questo modello qui. Stamattina, noi abbiamo parlato dell'immigrazione, no? In realtà possiamo vedere che nell'etnia di minoranza alcuni si sono creati con gli emigrati, per esempio i russi, i russi cinesi, attraverso la Russia sono passati dal fine, e anche i Huizu. Anche se noi, quando lo studiamo, è raro che lo classifichiamo insieme agli emigrati, ma guardando la sua storia, in realtà, rispetto alle etnie autoctone cinesi, anche se sono di minoranza, il Huizu è diverso. Loro comunque spesso arrivano dall'Arabia, da Persi, da Asia centrale, di quelle ceppi etnici che si sono trasferite in Cina. E quindi i Huizu, il loro trasferimento, soprattutto è grazie all'immigrazione in Cina. E quindi si lega questo tema con alcuni temi che abbiamo già trattato stamattina, creando un dialogo. Cioè, questi emigrati, come si sono integrati nella società cinese, come si sono adattati alla cultura cinese e creando una loro cultura, con i loro modelli. Quindi, anche se noi abbiamo parlato di emigrati, non possiamo trascurare la religione islamica, perché in questo tipo di religione possiamo dire che c'è quello cattolico, il buddismo e anche l'islam, tutti sono arrivati in Cina. Questo ne parlerò più tardi. Perché attraverso la cinizzazione dell'islam possiamo vedere alcune caratteristiche della cultura cinese. Ma tutti e tre le religioni sono entrate in Cina con propri percorsi particolari. E rispetto al buddismo, rispetto al cattolicesimo, per esempio, che nel loro entrare in Cina hanno, attraverso diffusione con degli obiettivi ben precisi, per esempio, grandi maestri buddhisti che attraverso l'India sono entrati attraverso i confini e nella popolazione hanno cominciato a diffondere. L'islam non ha fatto lo stesso. L'islam è entrato in Cina all'inizio con l'uomo, con l'uomo come veicolo. L'uomo come veicolo e l'islam in Cina, nell'entroterra, non è passato per dei processi di catechizzazione con degli obiettivi dichiarati o occulti. Si è seguito naturalmente la comunità dei credenti, quindi attraverso queste comunità di islamiche che sposandosi con i cinesi locali dell'entroterra e quindi con la loro procreazione ha creato il proseguo di questa religione. Quindi è un viaggio etnico che ha permesso all'islam di radicarsi in Cina. Questo per quanto riguarda il modo di come l'islam è entrato in Cina e rispetto al buddismo, rispetto al cattolicesimo è stato diverso. E proprio perché questa è una cosa particolare, per questa particolarità vediamo che rispetto alle altre due religioni è proprio questo il punto di differenza. che le altre due religioni sono entrate in Cina per esempio attraverso gli intellettuali, attraverso la corte, attraverso l'imperatore, quindi a partire dalla linea, dalla strada più alta nella società più alta, quindi che influenzando gli intellettuali, lo Stato e il governo e quindi il potere che loro hanno, detengono, si cerca di diffondere e diffondere il potere religioso. Questo è stato il percorso delle altre due religioni. Invece, l'islam fin dall'inizio è sempre stato popolare. È passato per una via di massa collettivo e prima dicevo attraverso la procreazione non naturale della popolazione, ma anche attraverso nell'interno dell'etnia di eventi delle manifestazioni religiose. Dopo parlerò della formazione religiosa che ha fatto sì che Queso si è appoggiato come veicolo di diffusione dell'islam. Noi vediamo che attraverso legami di sangue o legami culturali Queso è sempre un legame tra etnie che vengono dall'Asia minore dall'Asia centrale di regione islamica che si uniscono a cinesi autoctoni soprattutto quindi cinesi Han perché hanno usato la lingua cinese? Perché quando si sono sposati con i cinesi si sono fermati per crescere i figli in questo processo gradualmente hanno imparato il cinese Han la lingua la cultura Han l'hanno utilizzato gradualmente quindi stamattina abbiamo parlato di Canton dei neri dei mus dei islam islamici nel sud della Cina ci sono degli accademici che stanno studiando questi argomenti gli africani alcuni di loro sono hanno a Canton sono anche iw ci sono arabi o altri africani anche islamici loro quando sono arrivati in Cina hanno attraversato esperienze di soprattutto sposalizio con dei Han questo tipo di processo e nella prospettiva di sviluppo di questo tipo di combinazioni può essere che loro anche avranno creeranno un modello di comunità con una certa identità particolare con una certa cultura particolare attraverso le ricerche e attraverso il tempo noi testimonieremo questo e osserveremo questo processo tornando ai huizu e la società come si è formata sono proprio i huizu i muslimi islamici che sono arrivati dall'Asia centrale in realtà c'erano anche africani soprattutto i abbas soprattutto queste popolazioni che arrivavano dall'impero abbas dell'Asia centrale provenivano anche dall'Africa e erano arrivati in Cina per scopi commerciali soprattutto quindi possiamo vedere che questo dal punto di vista del ceppo umano e sono delle combinazioni che arriva tra i ceppi esterni straniere e quelli cinesi perciò questo tipo di cultura è una combinazione tra confucianismo e cultura islamica proprio questo motivo qua è la islamica nella huizu è sempre proseguito sulla strada popolare perciò è islamico con il buddismo con il cristianesimo non sono mai entrato nella società principale è sempre sulla base dello sviluppo dei credenti perciò non è sempre stato un pur adattamento possiamo dire unilaterale e questa caratteristica fa sì che nella storia i cinesi quando guardiamo a musulmani e vediamo sempre venito fuori è diverso allineato perciò la formazione di questa etnia anche se vivono cioè convivono in zone diverse però dato che i cinesi non abbiamo mai tanto conosciuto questa religione la sua cultura perciò abbiamo sempre considerato una cosa diversa da noi una cosa che viene da fuori ovviamente la cultura tradizionale cinese veneriamo i nostri antenati facciamo diversi sacrifici di tutti questi eventi sono eventi popolari la cultura cinese soprattutto sui panteisti perciò c'è una grande differenza con l'islamico con rituali islamici perciò il sviluppo di questa religione e il suo costume per esempio le sue festività per esempio i suoi eventi più importanti loro prendono le regole sulla religione proprio per questo motivo quando i cinesi guardano musulmani o guardando islamici li vedono come uno straniero come qualcosa di diverso è proprio perché è popolare proprio perché non è diventato uno del movimento principale fa sì che l'islamico nel suo sviluppo in Cina è stata abbastanza piatta abbastanza piatto possiamo dire che chi conosce la storia cinese sa che sia cristianismo sia buddismo ci sono stati diversi eventi loro hanno dovuto adattare alla cultura cinese principale però sono successi dei conflitti con la cultura principale e questo tipo di conflitti fa sì che buddismo e cristianismo hanno potuto entrare nella società principale perché hanno avuto questo scambio questa comunicazione con l'intellettuale importanti di quei momenti invece islamici e musulmani hanno sempre praticato la strada popolare raramente ha avuto scambi oppure comunicazione con la società principale cinese perciò questa religione dopo che è entrato in Cina perché è arrivato in Cina abbastanza presto nel settimo secolo perciò lo sviluppo in Cina è stato abbastanza tranquillo non ci sono stati dei grandi movimenti o eventi soprattutto io parlo di Neiti nella zona centrale non nella provincia di Xinjiang ovviamente non è mai nella storia non ha mai successo degli conflitti frontali con la società principale cinese però questa situazione nella dinastia di Qin è stata frantumata questa tranquillità è stata frantumata è cominciato a esorgersi degli conflitti perché gli islamici durante la Qin dinastia sono stati influenzati dal sufismo perciò ci sono nuove religioni nuove reclami i conflitti tra diverse case diverse religioni fanno sì che la etnia di Hui è successo un movimento antisociale anti la dinastia di Qin anti imperialismo e questo movimento ha frantumato la tranquillità la situazione della tranquillità storica perché è sempre stato un sviluppo parallela senza mai incrociarsi senza mai avere conflitti la causa principale è che all'inizio nella fase iniziale da VII secolo fino al XVIII secolo in Cina nella zona centrale nello suo sviluppo in questi più di mille anni non ha mai avuto dei problemi la sua distribuzione è molto ampia perché in tutto territorio cinese perciò ci sono delle piccole contè piccole comunità che sono dove loro vivono più concentrati e tutti questi contè non hanno della relazione di sviluppo insieme ognuno fa per conto suo non ci sono stati dell'aggregazione però nella cinnastia la situazione è cambiata perciò sono più sistematiche sono più organizzati perciò in questa situazione ogni piccolo gruppo ha proprio capo di questa religione e della loro credenza perciò ognuno ha la sua zona di possesso ha la zona di controllo piano piano la società islamica società di questa etnia sono successi delle differenze del conflitti perché prima era più dispersi invece adesso aggregandosi si è formato un altro tipo di sistema sociopolitico e questo tipo di sistema ovviamente ha influenzato la sua funzionalità e posizione nella società noi ovviamente non abbiamo più tempo di analizzare però possiamo dire che questo tipo di la lotta tra queste diverse forze fa sì che poi dopo la dinastia successo diversi eventi e diversi movimenti della ribellione poi in realtà tutto questo che ho parlato la nostra ricerca oppure quando la religione islamica è entrata in Cina qual è la sua caratteristica in Cina la cultura cinese abbiamo detto che islamico cristianismo buddismo il motivo per cui sono entrati in Cina è perché la cultura cinese ha sempre la toleranza di accettare ciò che è diverso di integrare gli altri accettare la diversità questa toleranza fa sì che altre regioni altri paesi altre culture possono entrare sul territorio cinese e di mettere la propria radice la religione islamica quando è entrata in Cina non può separare il successo dello sviluppo dell'islamico sul territorio cinese però anche la cultura cinese ha il suo limite perché noi siamo più concentrati sul confucianismo secondo confucianismo abbiamo detto altri professori anche che significa di essere unificati e questo modello è molto importante per noi una cultura estera straniera quando non ha dei conflitti principali con questo obiettivo principale di essere integrato di essere unificato se può sviluppare tranquillamente se può adattare a questa cultura principale può sviluppare però nel caso che offende oppure crea conflitto con questa cultura principale può avere conflitti può avere addirittura addirittura della comprensione del controllo da parte del governo perciò il motivo per cui poi nella zona di Xinjiang è stato controllato stato oppresso dal governo cinese è proprio perché dopo si sono assorti questo tipo di problemi perché all'inizio era ognuno sviluppare per sé ognuno non dava fastidio agli altri è successo degli cambiamenti all'interno dell'etnia qui hanno cercato di gestire i propri interessi di governare la propria zona questa richiesta fa sì che questo fenomeno di la soppressione del governo non sia più diventato inevitabile questo è il sviluppo della religione islamica in Cina fino ad oggi soprattutto nel periodo della dinastia Qin perché è stato soppresso da governo perché è stato poi controllato da questa storia possiamo vedere che la cultura cinese abbiamo una certa toleranza questo è vero questa toleranza fa sì che la nostra cultura sia motorica però da un altro punto di vista questo concetto di unificare questa caratteristica fa sì che la cultura straniera quando vogliono sviluppare in Cina il suo processo può affrontare diverso destino questa è la storia di religione islamica in Cina vorremmo traere una piccola conclusione nella società tradizionale cinese la religione non esiste soltanto per la nostra esigenza spirituale ma esiste anche per la richiesta del governo della società della costruzione del sistema di valore possiamo vedere che l'esistenza della diversa religione in Cina ha una sua singolare complessità queste sono le lezioni che possiamo imparare dalla storia del sviluppo della religione islamica ovviamente dobbiamo considerare anche cristianismo e buddismo sono tutte le religioni che vengono da fuori la sua peculiarità e il suo modello di sviluppo e di seguito parleremo sempre di questa tematica hui zu etnia hui in realtà è un'etnia più ampio perché vivono insieme con la han e loro usano anche mandarino come lingua madre hanno anche subito questo processo per poter adattare alla società cinese sono adattati alla società cinese e questa etnia ha potuto mantenersi fino ad oggi anche dopo la suppressione del governo della Qing dinastia però nella sua storia la sua tradizione sono sempre mantenuto a tutto un sistema completo della cultura della sua sistema di protezione la strategia di cultura perché soltanto con la sua strategia questa etnia ha potuto svilupparsi nella dinastia Tang Song fino a Yuan all'inizio all'inizio dello sviluppo dell'islamico in Cina abbiamo detto che ha sviluppato in maniera molto tranquilla non ha mai avuto dei conflitti con i governi all'inizio della dinastia Ming invece possiamo dire che sono 14 15 16 secolo e sono successi altri tipi di situazioni chi governa l'autorità ci sono delle leggi che sono stati definiti dal governo che richiede gli stranieri di togliere il proprio costume non può più parlare la propria lingua non può avere proprio abiliamento che rappresenta la propria religione questi divieti questo tipo di background questo tipo di divieti fa sì che questa minoranza hanno sempre cercato di adattarsi alla cultura principale non è sempre stato unilaterale ha cercato di sempre di modificare se stessi di adattarsi alla società principale cinese questa è la sua strategia di sviluppo e questa strategia possiamo anche leggere in diverse ottiche perché questa etnia nella sua dispersione in certe zone perché usano la lingua di Han perché all'inizio erano pochissimo adesso sono più di 10 milioni per poter sopravvivere per poter svilupparsi la chiave più importante aggrapparsi e la religione in ogni contea di concentrazione di questa etnia loro hanno questa credenza spirituale però è anche un metodo di vivere è un modo di vivere tramite diversi rituali attraverso diversi eventi per garantire l'attrazione della loro religione la religione islamica non occupa soltanto il posto nella spirituale è diventato piano è diventato abitudine è diventato costume sociale possiamo vedere che in diverse zone della Cina la principale differenza non è costume non è neanche la lingua perché loro usano la nostra lingua ufficiale la differenza principale è nell'abitudine e nel costume sociale soprattutto nel matrimonio nel funerare perché noi facciamo perché nella islamica mettiamo chi è passato in un altro modo sotterraneo perciò il governo cinese consente anche a questa loro non mangiano maiale come sappiamo tutti sono queste le differenze che distinguono la loro religione tra etnia di Han però anche queste abitudini sono diverse nelle zone diverse però sono tutte sulla base della loro credenza della loro religione però questa abitudine della vita questo tipo di costume sociale che sono diversi sono la principale differenza poi anche dal punto di vista educativo noi abbiamo detto che questa etnia è diversa da altre etnie perché usano la lingua mandarino perciò è la stessa lingua che usiamo tutti i cinesi non l'hanno accettato l'educazione medio educazione normale in Cina però nello suo sviluppo dato che non ha un speciale sistema di trasferire questa loro tradizione trasferire loro conoscenza perciò alcuni intellettuali della questa etnia si preoccupano che piano piano possono scomparire perciò alcuni intellettuali di questa etnia hanno cercato di sviluppare educazione nel mausoleo è un tipo di educazione religiosa perciò dal XVI secolo soprattutto nella zona nord ovest nella zona di Yunnan Hsendong hanno cominciato a fare questo tipo di educazione religiosa ovviamente tante persone che accettano sia l'educazione del governo centrale però nel proprio tempo libero prendono anche questo tipo di educazione religiosa studiano corano studiano lingua arabo studiano altre lingue della persia questo tipo di educazione religiosa ha garantito la tradizione trasferimento della tradizione della conoscenza di questo popolo appunto di vista della possiamo dire che nella nostra nella dopo il diciestettesimo secolo soprattutto ancora dopo c'è un nuovo modo di pensare e di utilizzare confucianismo con il concetto di confucianismo e di interpretare muslim interpretare islamici perché devono usare questi pensieri buddistici perché noi abbiamo parlato che loro usano mandarino come lingua ufficiale perciò loro non riescono a leggere il corano nella lingua originale perciò se vogliono conoscere il corano possono soltanto leggere la versione in cinese la versione in mandarino da un altro punto di vista possono anche conoscere meglio la società di Han perciò utilizzare confucianismo per poter interpretare la religione islamica è molto importante per loro perciò solo tramite questo modo anche le etnia Han possono conoscere la loro religione hanno creato questo concetto che dobbiamo essere fedeli alla dobbiamo essere fedeli però anche al governo cinese oppure all'imperatore bisogna essere fedeli verso tutte e due perciò perciò nel popolo di etnia bisogna dire che amare proprio paese amare proprio religione sono la stessa cosa sono corrispondono e questo pensiero ancora conservato fino ad oggi perciò questa doppia fedeltà è molto importante per loro e non è separabile dal suo sviluppo ogni movimento sociale in Cina possiamo dire che in ogni movimento sociale in Cina ci sono partecipazioni dell'etnia Hui all'interno della sua società all'interno della Hui etnia ci sono anche tantissime diversificazioni perché in Cina abbiamo detto che sono molto ampio dispersione su tutto territorio cinese nella zona nord est diverso nella zona c'è una grande differenza quando si tratta della zona geografica possiamo vedere che nella zona nord ovest la sua caratteristica religiosa è molto importante nella zona centrale o nella zona nord est invece hanno mantenuto soltanto le sue abitudini non è molto religioso hanno mantenuto abitudine costume sociale invece nella zona est sud est la religiosa non è più religiosa per esempio mangiano anche maiale però hanno mantenuto qualcosa e tramite la memoria storica hanno cercato di mantenere archivi storica soprattutto tramite diversi rituali dei funerari oppure altri tipi di rituali di mantenere le costume usanze della propria religione stamattina abbiamo parlato della immigrazione una parte della etnia hui dopo l'affarimento della ribellione sono andati all'estero perciò possiamo dire una parte della immigrazione cinese sono stati effettuati dall'etnia hui soprattutto nella zona centrale dell'asia loro hanno mantenuto la condivisione con loro etnia che hanno questo costume tradizionale e mantenuto la lingua mandarino perciò questo tipo di costume è molto particolare perché nella zona centrale dell'asia sono anche tante persone che sono muslimici perciò in questo caso la sua etnia non è più un modo distinguibile allora hanno mantenuto costume cinese la lingua cinese questa nel 2009 c'è stata una miss etnia hui nel 2009 possiamo vedere che il loro costume è ancora il costume tradizionale cinese e invece anche il loro abiliamento in Cina non è molto diverso dall'abiliamento cinese si riflette soprattutto sull'abitudine della vita e della rituale attraverso questo tipo di indagine vorrei riassumere il significato di questo mio rapporto innanzitutto porre i hui in una posizione di lontananza rispetto alle altre comunità islamiche nel mondo che sono in Cina e vedere come loro hanno creato una forte funzione in Cina creando una buona comunione con la civiltà cinese e quindi tra la regione confuciana e la regione islamica si è creato in Cina un caso unico di comunione di intreccio e quindi gli accademici oggi che cercano di raccontare la relazione tra la civiltà islamica e anche le relazioni con i paesi europei e americani c'è una tensione sicuramente particolare a come sono andate le cose in Cina poi nel ricordare come in Cina si è sviluppato la relazione con l'Islam allora rispetto all'Islam e l'Occidente questa altra tematica spesso in conflitto vogliamo far vedere come in Cina non si è creato non solo non si è creato un conflitto frontale anzi si è creato un supporto da parte dell'Islam per lo sviluppo cinese e un continuo adattamento come modello di inserimento nella società quindi questo è utile sia per la Cina per lo sviluppo della comunità islamica in Cina ma anche altre nazioni in una società plurale il significato in questo tipo di background è che io prima ho parlato di queste doppia condivisione di valori sia verso la religione sia verso lo Stato e quindi una accettazione dell'etnia e dei suoi valori non è in conflitto con altrettanta accettazione della struttura dello Stato si rientra nella struttura politica cinese e in tutti gli eventi culturali e anche di rivoluzioni ci sono stati partecipati da parte di Heizu in ognuna di quelle e quindi ci sono state una serie di attività di controllo di regolamentazione che all'interno della stessa comunità dei Heizu si sono adottati delle loro dinamiche delle loro metodologie che il governo centrale cinese ha consentito ma poiché i Heizu sono molto separati e sono anche molto diffusi a livello territoriale a livello economico e a livello anche sociale rispetto al mainstream cinese alla società principale si è percorso un'attività diversa si è percorso una strada diversa quindi c'è tutto un sistema proprio dei Heizu che sono entrati nel caso delle altre etnie ognuno ha cercato il suo modo per entrare in relazione con i cinesi locali invece loro hanno progredito insieme ai cinesi e quindi sono altamente integrati nel sistema cinese questa è la mia tesi quindi la cultura etnica come realtà sociale fornisce un senso di appartenenza emotivo per cui nel rispetto della diversità e all'interno di una struttura politica si riesce ad avere una condivisione di visione e di completamento quindi l'obiettivo è quello di garantire il rispetto delle diversità e il diritto a queste diversità ma nello stesso momento si cerca di raggiungere un obiettivo di doppia bellezza e quindi in questa armonia così come stamattina abbiamo parlato che è l'obiettivo cinese l'analisi della cultura di Heizu in Cina è proprio in questa direzione condivisione di valori e integrazione statale grazie 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 a tutti